Un crollo dietro l'altro. La costa adriatica del Salento continua a franare e tratti sempre più numerosi, proprio tra i più belli e suggestivi, diventano progressivamente luoghi in cui è evitata la balneazione. L'ultimo crollo in ordine di tempo ha riguardato villaggio Conca Spechiulla, 10 km a nord di Otranto, dove il distacco di una parte della Falesia ha distrutto una delle ultime baie, col crollo di un'enorme porzione di roccia accanto alla scala d'accesso al mare, scavata abusivamente oltre 40 anni fa. Ma questa è solo l'ultima puntata di una serie di cedimenti che negli ultimi anni hanno creato profonde ferite, soprattutto nelle insenature tra Otranto e gli Alimini, toccando anche le marine di Melendugno, senza risparmiare le aree a ridosso della Grotta della Poesia, le Grotte di Leuca, la Baia di Porto Migiano a Santa Cesarea, i Faraglioni di Santa Andrea e la Grotta Monaca. Tutti simboli del Salento, angoli di paradiso sempre più martoriati dal fenomeno del crollo della Falesia. E ora, a lungo elenco di zone interdette alla baliazione, si aggiunge anche Porto Badisco, dove la Capitaneria di Porto ha imposto il divieto fino alla distanza di 30 metri dal tratto di costone roccioso a picco sul mare. Stessa cosa per la Grotta del Vento e la Palascia. E così, a fronte di migliaia, tra residenti e turisti a tratti ogni anno dal fascino di questa costa, i tratti di litorale sicuro scarseggiano sempre più. Un adriatico sempre più flagellato dall'erosione, che continua a mangiarsi la costa, inesorabilmente, pezzo dopo pezzo.